Di nuovo assieme seconda parte con la nostra rassegna stampa, è tempo di parlare di sport e andiamo con le prime pagine dei quotidiani nazionali, naturalmente tutte si concentrano sull'addio di Max Allegri alla Juventus, la gazzetta dello sport titola The Hand, il divorzio, Agnelli Allegri, fine di una grande storia di calcio, Max lascia la panchina della Juve dopo 5 anni e 5 scudetti, La causa? Divergenze con Niedved e Paratici sui progetti futuri e adesso chi? Si chiede la gazzetta come molti del resto, da Simone Inzaghi a Sarri, tutti vogliono la signora ma c'è anche il nome di De Champ, quello di Conte, di Pochettino, vedremo dunque chi sceglierà la Juventus. C'è la penultima giornata di campionato però e l'Udinese e il Genoa una vittoria per tenere lontani gli incubi, oggi si parte come detto alle ore 15 con Udinese Spal alle 18 Genoa Cagliari alle 20.30 Roma Sassuolo. Domani invece Chievo-Sampa alle 12.30, Parma-Fiorentina alle 15, Milan-Frosinone alle 18, Juve-Atalanta alle 20.30 così come Napoli-Inter, si chiude lunedì con Lazio-Bologna. In classifica vediamo la Juve ormai a 4.89, Napoli a 76 e nessuno le schioda, poi c'è la lotta Champions tra Inter-Atalanta, Milan-Roma e Torino e poi per quanto riguarda la salvezza. Dal Cagliari al Bologna alla Fiorentina a 40, al Parma a 38, l'Udinese a 37, il Genoa a 36, l'Empoli a 35, tutte si giocano la salvezza. A proposito della sfida dei bianconeri di oggi alle 15, andiamo all'interno della Gazzetta che da un lato propone l'intervista al grande ex della sfida di oggi, ovvero Felipe Spal che progetto Maudine. E' nel mio cuore il brasiliano che arrivò nel 2000 e lo straniero da più tempo in Italia, in frulli pensavo fosse per sempre a Ferrara, un club serio. Per quanto riguarda invece le dichiarazioni di Mr. Tudor che carica la squadra, dice chiudiamo il discorso salvezza, l'ho detto ieri in conferenza stampa come al solito con parole chiare e nette. Allora andiamo ad ascoltare un passaggio di Tudor che si concentra proprio sullo stato di forma dei suoi. Ieri non si è allenato D'Alessandro, è un dubbio? No, oggi si è allenato bene. In calcio garanzia non esiste, come lei lo sa, ci dà un po' di fiducia, un po' di morale, un po' di confidenza, se si fanno le buone partite si vince, questo sì, però le garanzie non ci sono. Cioè domani solo da fare bene, come ha detto lei è una gara fondamentale, non si può sbagliare, a volte questo può anche pesare perché è così nel calcio. No, poi c'è anche un'altra partita dopo, c'è anche Cagliari, però noi speriamo che finisce tutto questo weekend e per finire bisogna fare del nostro, bisogna fare una buona gara e prendere questi tre punti che è fondamentale. Quindi lei fa capire che in caso di vittoria dell'Udinese, che ci sta, perché l'Udinese è in salute, potrebbe essere al 99% della salvezza. No, questo dice lei, è giusto che si fanno dei calcoli, io non mi sbilancio di questo, io mi concentro sulla nostra prestazione, che in conseguenza di questo ci sono dei punti. Se si fa bene, se ci ha qualità, c'è anche avversario che ha fatto molto bene questo anno, che Dani fa bene, con un attore bravo, preparato. Poi noi facciamo il nostro e poi vediamo, come abbiamo già parlato tante volte, quando si arrivano ultime partite, due, tre, conta tutto, contano anche altri, conta chi affronti, che squadre affronti, conta tutto. Conta tutto, dice mister Tudor, andiamo a vedere anche le probabili formazioni della sfida di oggi. L'Udinese con il 3-5-2, musso tra i pali, poi De Maio, Troste, Kong e Samir a centrocampo, Larsen, Mandragora, Sandro, De Pole ed Alessandro, davanti il duo Okaka-Lasagna che arrivano dall'ottima prestazione di Frosinone. La Spalli, invece, risponde con modulo speculare, Gomis tra i pali, poi Bonifazi, Vicari e Cionec. A centrocampo, Fares, Kurtic, Schiattarella, Murgia e Lazzari, davanti il duo Floccari-Petagna. Le probabili formazioni in campo alla Dacia Arena alle ore 15. Andiamo ora sulle altre prime pagine nazionali, il Corriere dello Sport che titola Mai più Allegri dopo 5 anni clamoroso divorzio dalla Juve. Il terzo incontro con Agnelli, Sancisce, la rottura, decisivo il deterioramento dei rapporti con Paratici e Niedved, giocatori in lacrime, Deschamps, Inzaghi, Jardim e Mihailovic candidati alla sostituzione. E poi la Roma al Bivio Champions, De Rossi monta la protesta, stasera il Sassuolo, Tifoin rivolta per lo strappo con il capitano. Le altre notizie è Federer torna a casa, Nadal in semifinale, stiamo parlando degli ATP di Roma e poi MotoGP, oggi la Paul Rossimale in Francia. Andiamo ora sul Tutto Sport che titola così la scelta di Agnelli, divorzio da Allegri, rivoluzione Juve. I nomi che fa il Tutto Sport per il sostituto sono quelli di Simone Inzaghi, Didier Deschamps e Maurizio Sarri. C'è Xavier Jacobelli che racconta il quinquennio di Platino, tutte le vittorie di Allegri con i bianconeri. Poi le altre notizie, svolta Inter, ok dal UEFA, mercato al top, stop alle limitazioni. Bivio Milan invece, campo scettare, si scaldano, Leonardo in bilico, mossa toro, c'è Mario Rui per l'Europa, la trattativa aperta con il Napoli. Volley d'oro dopo Italia da Champions, oggi le finali uomini e donne. Andiamo ora sui quotidiani di casa nostra, partiamo con il messaggero Veneto e torniamo a parlare di Udinese con la prima pagina del quotidiano che titola Udinese Spal, prima vincere poi sperare con tre punti. I bianconeri si avvicinerebbero alla salvezza che può arrivare in serata se il Genoa perde con il Cagliari. Semplici schiererà la miglior formazione, Felipe bloccato invece dal mal di schiena. Abbiamo visto anche la sua intervista prima sulla Gazzetta, anche qui vi proponiamo le probabili formazioni della messaggero che sono speculari a quelle che abbiamo visto prima con l'Udinese, Musso Trepali, Samir Reconvi, De Maiole, Alessandro De Paul, Sandro Mandragora, Striger Larsen, Lasagna o Cacca davanti. Così come sono gli stessi anche i nomi della Spal. Andiamo a riprendere anche poi le dichiarazioni di Tudor in conferenza stampa che tiene alta la guardia. Non rendiamo inutile tutto quello di buono che abbiamo fatto finora il tecnico croato. Chiede alla squadra di restare sul pezzo fino alla fine, anche se la speranza è di chiudere il discorso salvezza nel weekend. Per quanto riguarda poi il tifo ci sarà una bolgia alla Dacia Arena perché lo stadio indossa l'abito da Serie A. Ancora mille biglietti in vendita. Tutti gli altri italiani sono andati a Ruba. Naturalmente l'iniziativa e i prezzi popolari messi in campo dalla società per avvicinare tutto il pubblico ai propri beniamini. Le biglietterie dello stadio saranno aperte oggi dalle 9.30 fino alle 15 orario di inizio del match. Abbiamo sentito prima le parole di Tudor. Andiamo ad ascoltare anche quelle di Semplici, l'allenatore della Spala. L'obiettivo come abbiamo detto quando abbiamo raggiunto la salvezza era quello di provare a fare queste tre partite finali nel migliori modi ma soprattutto per cercare di fare più punti possibili e così sarà anche domani a Udine. Domani sarà un'altra partita difficile dove loro sicuramente si giocano qualcosa di particolare e noi bisognerà cercare di fare la nostra gara con grande rispetto, con grande attenzione e con la voglia di, come ho detto prima, di arrivare più in alto possibile. Avendo raggiunto il nostro risultato magari qualcosa anche inconsciamente può lasciare la squadra però vedendo la partita con il Napoli questo aspetto è passato al secondo piano perché i ragazzi hanno dimostrato ancora una volta grande professionalità, grande concentrazione e voglia di battere l'avversario che si presenta domenica dopo domenica. Essere giudice dei campionati degli avversari era impensabile, no? Insomma questa deve essere un'altra soddisfazione, il fatto che ci siamo salvati a un largo anticipo che siamo giudici anche del percorso di altre squadre e proprio per questo bisognerà intraprendere queste partite finali con la massima professionalità, con il massimo rispetto e la voglia soprattutto di pensare a noi stessi per cercare di fare due belle prestazioni che devono chiudere l'annata nei migliori dei modi. E' un'altra parte del messaggero, una parentesi sull'Inghilterra perché si fa la storia questo pomeriggio la finale di FA Cup tra Watford e City, Elton John e Pozzo Junior a Wembley per la storia. Andiamo sulle pagine dedicate all'Udinese dal Gazzettino per ritrovare altri spunti in vista della sfida di questo pomeriggio. Tudor ci crede, così titola il dorso friulano del quotidiano. La Spal, un'avversaria reduce da un ottimo campionato ma servono i tre punti per salvarci. Ci siamo preparati bene, spero che mergano i nostri pregi. Grazie a me ai giocatori più esperti, il tecnico l'avete sentito, ha annunciato che Marco D'Alessandro sta bene dopo aver lavorato poco a parte giovedì per un affaticamento muscolare. Ieri l'ex Atalanta si è unito al gruppo per svolgere la rifinitura per cui anche se Turo non si è sbilanciato dovrebbe scendere in campo la squadra che ha vinto e convinto contro il Frosinone, un unici che dà valide garanzie di far bene. I bianconeri potranno contare, scrive Guido Gomirato, sul continuo incitamento dei tifosi che si annunciano numerosi approfittando anche del prezzo stracciato dei biglietti. 10 euro per tutti i posti, 4 per gli under 4. Rimane a disposizione un migliaio di italiani poi in particolare del settore Curva Sud in vendita oggi ai botteghini dalle 9.30 sino all'inizio del match. Saranno presenti anche i 1.500 fan della spalla e dovrebbe dunque essere battuto il numero di spettatori presenti contro l'Inter, ovvero 24.700. Semplici, l'avete sentito poco fa, vuole chiudere bene il ciclo estense. Dopo 5 anni è tentato dalle offerte di vari club più importanti. L'allenatore che ha avuto anche qualche problema di salute ma è stato fino alla fine con i suoi nell'ottenere questa salvezza. Andiamo anche a dare un'occhiata a quali potrebbero essere le insidie della formazione ferrarese. Petagna c'è il bomber trestino scatenato con ottime prestazioni, ha guidato la squadra in questa conquista della salvezza e poi c'è anche il mercato incombente. Saranno tanti i giocatori che probabilmente in estate prenderanno diverse vie da Ferrara con la famiglia Colombarini che incasserà dalle cessioni i nomi. Tra tutti spicca proprio quello di Andrea Petagna, obbligo scattato dopo il raggiungimento della salvezza, l'acquisto del bomber che mancava alla squadra, la spalla ha trovato il bomber, Petagna l'ha ritrovato se stesso dopo anni di tanti complimenti e pochi gol. Lasciamo l'Udinese, andiamo a dare uno sguardo invece al Pordenone che oggi sarà spettatore nella sfida di Supercoppa tra la Virtus Entella e la Juve Stabia. Poi sabato prossimo il match decisivo per la conquista del trofeo, sabato 25 alle 18, l'ultimo atto al Bottecchia. Oggi nel frattempo la formazione svolgerà un amichevole al De Marchi con la Beretti, mercoledì mattina il sindaco ciriano invece convocherà i neroverdi in municipio. E' promossa tutta la città, semenzato parla oggi al quotidiano e dice pronti ad alzare due trofei. Il turno di riposo come detto perché ci sarà al menti di Castellamare di Stabia alle 20.30, la sfida tra le Vespe giallo-blu e la Virtus Entella e poi naturalmente sabato prossimo l'atto conclusivo di questo storico campionato di Serie C per il Pordenone che continua naturalmente a lavorare anche sul fronte mercato con il presidente Lovisa che non ha perso il fiuto dei gol. E' stato proprio lui aprire le marcatura in un match di solidarietà organizzato al vecchio comunale di Prata tra le vecchie glorie del calcio e la stampa Veneta insieme. Un'iniziativa anche per raccogliere fondi e naturalmente festeggiare lo stesso Pordenone. Sulla fronte Serie D invece, Dimash ha fatto 13, ora va in Brasile. Stiamo parlando dell'attaccante del Chions che è stato tra i protagonisti della salvezza giallo-blu. Il futuro resta un punto di domanda, certe critiche non mi sono piaciute. Andiamo a parlare di Pordenone anche dalle pagine del messaggero Veneto che si concentra poi anche sui possibili acquisti. C'è il figlio del presidente Lovisa che ha già aperto le varie trattative per acquistare pedine importanti. Per il prossimo campionato, per esempio, a Salò si va a osservare Fischlaler, piace l'attaccante del Catanzaro che domani sfida la Feralpi. Mercoledì la squadra dello staff in municipio, Tedino, verso Padova, l'ex allenatore del Pordenone e del Palermo ha preso contatti con la formazione patavina che è stata retrocessa in Serie C. Semenzato sogna di alzare due trofei, sarebbe stupendo per i nostri tifosi. Il terzino parla una settimana dal match che contro la Juve Stabia chiuderà la stagione. I campani ospitano Lentella, altra estate tormentata in Serie B perché con i ricorsi andiamo anche a capirne un po' di più la categoria vive una seconda estate tormentata alla Boccolà dell'anno scorso che aveva visto ridursi da 22 a 19 il format con i ricorsi contro ricorsi. Nella notte tra giovedì e venerdì il Palermo ha provato a fermare gli spareggi promozione al via ieri con Spezia Cittadella, la vittoria della Cittadella, oggi Verona Perugia con un ricorso d'urgenza al Collegio di Garanzia ma naturalmente tutto rimane in forse per quanto riguarda anche la definizione del prossimo campionato di B. Andiamo sul basket, ora torniamo sull'Apu GSA, c'è il chiarimento dopo la lite con gli Ultras tra amici e gli stessi sostenitori dell'Apu, chiarimento tra l'Ale e rappresentanti del settore D dopo l'arrivo del nuovo coach, il giocatore saprà se rimarrà sul fronte playoff invece Treviso Passarieti senza grossi problemi e raggiunge le semifinali. Per quanto riguarda invece la Serie C i verdetti di Gold e Silver arrivano in una sola nottata. Gli altri sport parliamo di calcio dilettanti perché parte l'avventura del Briand di Precenico negli spareggi interregionali verso la Serie D, li leggiamo assieme La coda del campionato mette a disposizione 7 pass per la promozione in D Birtig, l'allenatore della squadra frulana, noi poco esperti ma nella giornata giusta possiamo battere chiunque e la sfida sarà contro il Pozzo Novo, squadra padovana, quinta nel Gironea del Veneto che ha già eliminato Montecchio e Arcella. C'è anche la finale di Coppa Promozione Profagalia, Villanova, Caccia del Bis. Domani invece partono i playoff e playout di promozione con le sfide per cercare il pass per l'eccellenza. Ci saranno gli scontri tra Codroipo, Casarsa e Vaiont, Pratafalchi e poi chi passerà se la vedrà con il Primone per il salto in eccellenza. Andiamo a parlare anche di calcio giovanile con la Manzanese che continua la sua corsa alle finali nazionali a Bressanone deve solo vincere per approdare i quarti nella fase nazionale con mister Bertino obbligato a battere l'ostico Briksen. Gli altri sport, la scherma con la Navarria che cerca punti per Tokyo, domani in Coppa, mentre la ginnastica ritmica vede ancora protagonista l'Argiuculese a un passo dalla finale agli europei di Baku, oggi torna in pedana. Andiamo anche con il rugby perché ci sono novità per quanto riguarda recuperiamo la pagina dedicata al rugby dalle pagine del messaggero. Non la troviamo comunque novità in vista anche nel rugby Udine che si appresta a preparare la nuova stagione. Prima di salutarci vi ricordiamo gli appuntamenti per la nostra giornata su Udinews TV dalle 14 la diretta con Massimo Campasso, studi e stadio e collegamenti dalla Laciarena tutti i suoi ospiti in studio per seguire il pre e il durante e la post partita alle 13 invece l'informazione così come alle 19 sempre qui su Udinews TV. Ci congediamo ora come al solito con la rubrica Accade oggi a cura di Guido Gomirato. Buona giornata a tutti! Il 18 maggio 1997, terz'ultima giornata del campionato 1996-97, l'Udinese è di scena a Marassi contro la Sampdoria. L'Udinese che è nei posti alti della classifica, che sta per centrare il primo grande obiettivo della sua stagione, la storica qualificazione alla Coppa UEFA. Ma quella domenica i bianconeri di Alberto Zaccheroni steccano di brutto, giocano male ma sono anche sfortunati. Pensate, dopo appena tre minuti perdono Gargo per un infortunio al ginocchio che poi lo costringerà a rimanere fuori per otto mesi. Poi, sempre nel primo tempo, ecco che Pierini si fa espellere per doppia ammunizione. La Sampdoria dunque ha via libera e dopo il gol iniziale di Verón rifila altre quattro reti all'Udinese. 4-0 per i Liguri, ma l'Udinese nelle ultime due gare riuscirà a vincere entrambi gli incontri e a ottenere il quinto posto che le darà la possibilità, come detto, di partecipare per la prima volta alla Coppa UEFA. Udinese che precederà di un punto soltanto, guarda caso, proprio la Sampdoria. Quella domenica a Genova l'Udinese è scesa in campo con Turci, Gargo, poi sostituito dopo tre minuti con Geno, Calori, Pierini, Elvec, Rossitto, Giannichetta, Alessandro Orlando, Poggi, Birov e Amoroso. Poggi, Birov e Amoroso.